Il terzo ospite con cui oggi abbiamo l'onore di parlare è proprio il coordinatore del premio Best Practice, Giuseppe De Nicola. Dottor De Nicola, allora siamo giunti alla quinta edizione, ci racconti un pochettino in breve la storia del premio e il risultato, diciamo, il percorso per raggiungere a queste due giorni? Il risultato è stato un lavoro di cinque anni che ha in qualche modo convinto tante imprese, anche non campane, anzi, il successo di quest'anno è stato avere aziende di Trieste, Bergamo, Vicenza, Palermo, Bari, venire a Salerno a raccontare i loro progetti. Questo lavoro è un lavoro fatto moltissimo attraverso il canale, attraverso il quale ci state seguendo, internet. Molta azione web 2.0, la stessa intervistatrice arriva da quella fonte, come Mila Birashid, come Giorgia Petrini che verrà a presentare il suo libro, insieme a Vincenzo Presutto e Antonio Savarese, come l'amica catanese Marica Orlando, grazie alla quale abbiamo condiviso una syndication digitale, sostanzialmente, attraverso le web tv che stanno seguendo questo evento. E' un momento importante perché lo si fa in Confindustria, un luogo dove probabilmente non è sempre attento a quelle che sono le innovazioni che il mondo sta vivendo, però Telecom ha accettato di essere partner di questo progetto, condividendo fino in fondo la mission di questa iniziativa, che è quella sostanzialmente di raccontare l'innovazione che c'è, che si fa tutti i giorni nelle imprese. 42 aziende ci hanno inviato le loro storie, i loro progetti realizzati per dei clienti, per innovazioni interne e utili ad affrontare questo momento complicato, difficile, ma necessariamente da vivere attraverso nuovi modi di fare impresa. Noi non facciamo nient'altro che raccogliere queste idee, questi progetti, riunirli, studiarli, comprenderli, presentarli a una platea quanto più ampia possibile e fare in modo che questo diventi cultura quotidiana del fare. Qualcuno, qualche costruttore mi perdonerà, ma penso che sia più importante investire in innovazioni che in immobili oggi per poter affrontare questo momento. Bellissima frase, cultura quotidiana e mi viene di pensare al pane quotidiano, quindi dovrebbe essere la cultura, il pane quotidiano degli imprenditori, dei manager, dei ricercatori, degli cosiddetti innovatori, indipendenti dalla loro origine storica, dal loro processo professionale. Ma effettivamente la campagna, in quale direzione sta andando? Oggi siamo alla quinta edizione del premio. Lei come coordinatore avrà avuto modo di, diciamo, vedere i più disparati progetti pervenuti. La campagna come regione, a livello proprio di tessuto industriale o comunque di ricerca e innovazione, come si sta muovendo in base ai dati che le sono pervenuti in tutti questi cinque anni? La campagna è una regione innovativamente viva, molto, molto viva e vivace. È una campagna felix da questo punto di vista, molto di più di quello che si immagina. Si deve fare molto di più ancora, però l'innovazione in campagna è un fatto ormai assodato. Al di là di criticità che ci possono essere di natura istituzionale, gli investimenti della regione attraverso i processi bloccati, con i porri e tutto il resto, ma la realtà quotidiana delle imprese, anche delle piccolissime, dei consulenti, è quella di una costante attenzione all'innovazione intesa come cultura quotidiana del fare. Quando parliamo di innovazione noi non parliamo semplicemente soltanto di innovazione tecnologica, innovazione di processo, di prodotto, organizzativa, culturale, sociale, innovazione nel marketing, innovazione nella direzione aziendale e così via. Il modello che stiamo seguendo è quello di raccogliere questi progetti che sono trasversali tra di loro. Abbiamo un progetto di welfare innovativo, abbiamo un progetto per una progettazione di un nuovo compasso, abbiamo un progetto di telecom che parlerà della nuvola italiana, abbiamo un progetto di marketing 2.0, l'abbiamo fatto noi, abbiamo progetti veramente molto molto diversi, li raccogliamo e li raccontiamo. Da questo punto di vista sarà che chiaramente viviamo in campagna e questo progetto nasce a Salerno, però abbiamo anche il piacere di scoprire che moltissimi imprenditori nel nostro settore sono pronti, attenti e presentano progetti, il che vuol dire che c'è un tessuto sensibile all'argomento. Questa è una grande speranza perché l'innovazione alla fine è occupazione evoluta, intellettualmente evoluta, l'occupazione e sviluppo economico e soprattutto è un modo per affrontare questo momento, lo ripeto. È in una regione che ne ha anche grande bisogno e magari anche attraverso queste iniziative comincia in qualche modo a rendersi conto che è accessibile anche senza dover ricorrere a finanziamenti importanti. Innovare non è sempre qualcosa di lontano, complesso, costoso, anzi è molto meno complicato di quello che si immagina e è anche un'opportunità che può creare grandi sorprese in termini di impatto economico agli imprenditori che investono in questo. Noi dobbiamo specificare una cosa, che il premio non è aperto solamente agli imprenditori locali della regione Campania, ma è aperto in maniera locale, cioè riceve i progetti di tutte le regioni d'Italia. Quante regioni sono quelle che sono più presenti nell'arco delle cinque edizioni? Noi abbiamo avuto nella scorsa edizione una bella pattuglia di aziende lombarde. Quest'anno quattro aziende marchigiane, ma è arrivata SVG da Trieste con un progetto molto singolare che domani verrà presentato in pubblico, che si chiama Neurostat, e lo potete in qualche modo già consultare sul sito del premio, anche votarlo in questo senso, e domani lo ascolterete direttamente online dalla voce del proponente. Abbiamo avuto un'azienda palermitana, un'azienda barese. La presenza è molto diversificata e molte altre aziende avrebbero voluto partecipare da altre regioni, poi anche per regioni di tempo e di organizzazione questa cosa non è stata possibile. La risposta è stata interessante anche sotto il profilo della tipologia dei progetti, molto diversi l'uno dall'altro, ma tutti quanti, come dire, accomunati, la mia lettura personale, ma credo che consultando il sito, le verifiche di voi stessi, dà una grande voglia di novità e di cambiamento per reagire a situazioni complicate come quelle create dalla crisi in questi tre anni. Quindi abbiamo sostanzialmente una bella varietà di proposte e di idee, molto diverse, non parliamo solo di informatica, ma parliamo anche di cultura, dell'innovazione applicata a settori artigianali. Ci sarà un progetto da Bergamo che presenterà il nuovo compasso ideato per affrontare la concorrenza cinese che stava soffocando i produttori di compassi del distritto di Bergamo. Per chi ci sta ascoltando via web e ci sta vedendo, facciamo un attimo il punto di questa due giorni. Noi in questo momento siamo in pausa coffee break, fra poco riprenderanno i lavori con Emila Birashid e poi ci sarà la possibilità in questi due giorni di votare i progetti online. Come funziona, dove bisogna andare e come fare per indicarlo a chi ci sta seguendo da casa o dal proprio ufficio. Allora, adesso infatti tra poco penso che partirà la prima sessione, il primo World Camp, come lo abbiamo battezzato, del premio, dove si presenteranno i primi 6-7 progetti in concomitanza con alcuni relatori. Ma abbiamo inteso aprire la possibilità a tutti gli amici online che ci seguono di dare il loro giudizio sul sito perché abbiamo messo tutti i progetti nella sezione progetti 2011 consultabili, una scheda sintetica, con la possibilità di dare un voto da 1 a 5 e di lasciare dei commenti per sensibilizzarli anche rispetto a quelle che sono le percezioni ricevute rispetto a quel progetto. È importante la vostra partecipazione anche perché da questo punto di vista contribuirete a premiare un progetto che sostanzialmente sarà un premio popolare, modello Sanremo sostanzialmente, proprio per avvicinare l'innovazione il più possibile a tutti. Mi farebbe piacere che ad ascoltarci ci fossero anche delle casalinghe, dei pensionati che possano in qualche modo condividere questo percorso. Io adesso però vi lascio perché credo che sia per partire il primo World Camp e ci vedremo nella prossima giornata e mezza su questo. Grazie a tutti voi. Bene, continuate a seguire i lavori del premio. Grazie.